Buongiorno, benvenuti alla successiva puntata del nostro progetto programma europeo Fuel Cell Hydrogen Education Model Goes to School, FCHGO, la lezione numero 4, la lezione più importante perché in questa lezione diremo finalmente che cosa sono cosiddette fuel cells, che cosa sono cosiddette celle a combustione, a combustione non sono minimamente, ne abbiamo qua una cella all'idrogeno, le chiameremo le celle all'idrogeno FCH, in breve, abbiamo qui la cella e vedremo in che cosa consiste il funzionamento di una cella così, in che cosa consistono vantaggi di usare le celle all'idrogeno, in che cosa consistono i rischi, difficoltà tecniche e difficoltà economiche per utilizzare questa nuova tecnologia. Lezione numero 4, celle a combustione d'idrogeno, in collaborazione con il professor Kamil Fedos, Università di Nicolao Copernico a Torun, Polonia. Celle a combustione d'idrogeno, brevemente, brevemente, la cella a combustione d'idrogeno è l'inversione di elettrolisi. In questo modello abbiamo il pannello fotovoltaico, abbiamo il contenitore con l'acqua, abbiamo la cella all'idrogeno e abbiamo il motore elettrico sotto. Posso far funzionare questa macchinetta con la cella fotovoltaica. Fornisco la luce, non deve essere neanche molto, molto intensa, fornisco la luce un po' nel visibile, un po' nell'infrarosso e la macchinetta va. Il pannello fotovoltaico fornisce la corrente con collegamenti opportuni qua, è tutto collegato al motore elettrico e la macchinetta va. Adesso, durante la lezione, cambio qua un po' i collegamenti, faccio arrivare la corrente dal pannello fotovoltaico, la faccio arrivare a questa cella. Questa cella funzionerà per il momento come la cella per fare elettrolisi, per ottenere l'idrogeno e l'ossigeno dall'acqua. Un attimo, devo trovare boccole giuste, facciamo collegamento, accendo la luce e durante la lezione proviamo di produrre un po' di idrogeno, un po' di ossigeno. I contenitori per l'idrogeno e per l'ossigeno sono da questa parte. Vedete che per il momento sono vuoti. Aggiungo un po' di acqua, è l'acqua distillata, assolutamente deve essere acqua distillata, accendo la lampada e vediamo se la cella comincia a produrre l'idrogeno e l'ossigeno. Torno alla parola chiave. Cella a combustione di idrogeno è l'inversione di elettrolisi. Nell'elettrolisi viene fornita l'energia elettrica e produce dall'acqua ossigeno e idrogeno. Nella cella a combustione di idrogeno da una parte viene fornito l'idrogeno, dall'altra parte l'ossigeno. Tutto, chiamiamolo, si mescola in qualche modo in questa struttura dentro e si ottiene la corrente elettrica. Vedremo se funzionerà. Cella a combustione di idrogeno può essere considerata come la reversione dell'elettrolisi. Viene fornita nell'elettrolisi la corrente elettrica, vengono prodotti i due gas. Nella cella a combustione l'ossigeno e l'idrogeno combinano insieme producendo la corrente elettrica. Adesso il vantaggio. Il vantaggio principale delle celle all'idrogeno è la loro alta efficienza. Perché? Perché motori termici a combustione di petrolio, di benzina, anche di idrogeno, a vera combustione, hanno l'efficienza energetica circa 30%. Perché non di più? Perché non possono avere di più le leggi di fisica non permettono di avere più alta efficienza. Le leggi di fisica. Assolutamente. Arriveremo. Invece, nella cella all'idrogeno, in teoria si potrebbe arrivare anche all'efficienza energetica dell'80%. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio è che in questo processo non viene prodotto niente altro che acqua. Idrogeno e ossigeno combinano e da qui uscirà l'acqua quando la cella comincia a funzionare. Questo processo è pulito, è silenzioso, viene prodotto solo acqua. Allora, la cella a combustione è una cella elettrica, alle quali, diversamente dalle celle a stoccaggio, possono essere fornite in continuazione la corrente elettrica e può essere prodotta all'infinito. Allora, riformuriamo la cosa. In qualsiasi batteria, in qualsiasi computer portatile, in qualsiasi telefonino, c'è una batteria. Una batteria che è una batteria di Volta. Una batteria che fu inventata da Alessandro Volta più di 200 anni fa. E nonostante che sono passati 200 anni, niente di meglio abbiamo inventato. In altre parole, scoperta geniale di Volta sta in questo che prendendo due pezzi di metallo, ginkgo e rame, immergendo nell'acqua, immergendo nell'acqua salata o nell'acido diluito, ha ottenuto la corrente elettrica. Però l'elettrodo, in particolare quello di ginkgo, si consuma. La batteria, dopo un certo periodo, deve essere buttata perché non ha più energia chimica dentro che può essere convertita nella corrente elettrica. Si è consumato l'elettrodo, si è consumata la batteria. Nella cella a combustione cosiddetta si chiamano full cell perché sembra che l'energia può essere fornita in continuazione perché in continuazione può essere fornito l'idrogeno e l'ossigeno da una e dall'altra parte. Allora, per produrre acqua, nella reazione chimica, la molecola di idrogeno combina con la molecola di ossigeno, produce acqua e produce energia. Possiamo bruciare, possiamo usare questo processo come nella combustione normale. Due gas, una fiamma e produce calore. Si capisce che dal punto di vista energetico questo processo produce calore, produce energia. Il trucco è di non produrre il calore ma di produrre direttamente energia elettrica. Allora hanno i vantaggi perché virtualmente il funzionamento è silenzioso e invece se l'idrogeno poi viene prodotto dalle fonti rinnovabili come la luce solare è totalmente ecologico. Cioè la combustione produce solo acqua, nessun gas inquinante, non produce biossido di carbonio, CO2, non produce gas serra. La combustione di idrogeno nel motore normale potrebbe essere non così ecologico perché si potrebbero produrre anche ossidi di azoto che sono gas serra e poi sono cancerogeni e che sono anche velenosi. In altre parole, totalmente, totalmente tecnologia, totalmente ecologica. Scoperta per puro caso nel 1839 un avvocato inglese scienziato dilettante faceva elettrolisi, nell'acqua aveva inserito due elettrodi, ha fatto passare la corrente dalla pila di volta, poi ha staccato la pila e ha osservato che passa la corrente nonostante che non c'è la batteria. Perché sugli elettrodi si sono accumulate delle bollicine di gas. Queste bollicine di gas hanno interagito in qualche modo con elettrodo, platino, e hanno prodotto la corrente elettrica. Questo è lo schema che ha pubblicato qualche anno dopo. Ha preso delle provette immerse nell'acqua con un po' di acido solforico, ha fatto elettrolisi, ha accumulato gas, ossigeno e idrogeno. Guardate che pian piano si sta accumulando un po' di gas, si sta accumulando un po' di gas, un po' di ossigeno, un po' di idrogeno. Andiamo avanti. E ha visto che ottiene la corrente reversa, invertita. Questa è la scoperta di Groves, 1839. Uno si pone la domanda, allora perché non viene utilizzata? Se è così ecologico, perché non viene utilizzata? La risposta è seguente. Non è così facile. Fra osservare il fenomeno e trovare un'applicazione tecnica, ingegneristica, economicamente sostenibile, c'è una lunga strada. Un progresso fu fatto con i voli di Apollo, perché con i voli di Apollo c'era bisogno di produrre l'energia elettrica, c'era bisogno di produrre l'acqua per gli astronauti e si è pensato di utilizzare le celle a combustione. Un po' diverse da queste, ma la prima grande botta, chiamiamolo, tecnologica per lo sviluppo fu con i voli di Apollo, 1960. La cella a combustione, quella che vi faccio vedere in questa macchinetta, è abbastanza complicata. Vedete che è forata, vedete che è metallica, vedete che c'è qualcosa dentro. Eh sì, eh sì. Questa cella deve produrre la corrente che arriva poi al motore. La corrente, i portatori di corrente sono elettroni. Per i cavi devono passare elettroni, ma dentro c'è l'acqua. Anzi, ci sono due volumi di acqua separati da un polimero, da una plastica. Una plastica non conduce la corrente elettrica, non conduce lì elettroni. Questo foglio di plastica è in mezzo, allora non deve condurre elettroni, non può far passare l'acqua, mescolare due volumi, ma deve chiudere la corrente elettrica. Come si può chiudere questa corrente elettrica? Questa corrente elettrica si può chiudere con altri portatori di corrente elettrica, protoni, protoni, H+. Se dall'atomo di idrogeno togliamo un elettrone, rimane l'ione H+, rimane l'ione, scusate, devo un po' pulire troppa acqua, abbiamo messo dentro, protone e l'ione H+. Protone è una particella delle dimensioni dell'elettrone. Un nudo protone è una particella elementare, può attraversare i pori, può attraversare i pori dentro questa plastica. È un po' più complicato, arriviamo subito a questo. Questo è lo schema della cella a combustione di idrogeno, Hydrogen Fuel Cell. Prima di tutto, circuito esterno dove possiamo attaccare un motore, una lampadina e due entrate. Entrata per l'idrogeno, entrata per l'ossigeno, entrata per l'idrogeno, H2, entrata per l'ossigeno, avevo disegnato la molecola un po' più grande, e dentro. Dentro vogliamo avere una reazione tra protoni, H+, con gli ioni di ossigeno O- oppure ioni OH- per ottenere acqua. Dalla reazione di combustione di idrogeno con l'ossigeno si ottiene acqua. Volevamo fare la combustione. Volevamo fare la combustione elettrochimica. Idrogeno, ossigeno, produce acqua. Questo è semplice. I problemi nascono con l'applicazione tecnica, perché idrogeno è gas. Volevamo avere gas molecolare, non vogliamo avere la molecola di idrogeno, vogliamo avere un atomo di idrogeno. Questo processo si chiama dissociazione. La molecola si divide in due atomi, questo è il momento che entra nella zona di reazione. Si dissociano in due atomi, e poi questo atomo deve perdere un elettrone. Un atomo di idrogeno perde elettrone. L'elettrone va attraverso il circuito esterno, verso la parte di ossigeno. Volendo chiamare queste zone, quella a sinistra chiameremo elettrodo negativo anodo, quello a destra positivo catodo. Allora, sull'anodo, l'idrogeno molecolare dissociano. L'idrogeno atomico perde elettrone, l'elettrone va attraverso il circuito esterno, e invece il nudo protone, quello che è rimasto dal atomo di idrogeno, attraversa la membrana. La membrana è una membrana di polimero. Una membrana di polimero particolare, nafion si chiama, è il trademark di Dupont, praticamente l'unico polimero che in questo momento viene utilizzato nelle celle a combustione di idrogeno. Vedremo la sua composizione chimica particolare. Protone arriva dall'altra parte della membrana, parte metallica di nuovo, e si combina con l'ossigeno per dare l'acqua. Riprende elettrone che fra tempo è arrivato con il circuito esterno, abbiamo completato la reazione. Ci sono diversi problemi. Per dissociare la molecola di idrogeno, nella fase gassosa serve parecchia energia. In che cosa possiamo misurare questa energia? Energia di solito misuriamo in joule, ma per i processi atomici è molto più utile, più visibile utilizzare i cosiddetti elettronovolt. Cosa sono elettronovolt? La batteria del mio cellulare è la batteria 3,7 volt. Questo vuol dire che un elettrone passando da un elettrodo all'altro elettrodo acquisisce o perde l'energia di 3,7 elettronovolt. Allora, energia in elettronovolt. Sono volt direttamente riportati a un singolo elettrone. Allora, per fare la dissociazione, la dissociazione serve circa 5 elettronovolt. Per far perdere elettrone a un atomo di idrogeno servono 13 elettronovolt. Ma per fare elettrolisi dell'acqua servono solo 1,23 volt. Allora, c'è qualcosa nei processi, nella fase liquida, interfaccia con i metalli, che rende queste energie molto più basse. Che cosa è? È un catalizzatore. È un catalizzatore. Per rendere reazioni chimiche più facili si usa il cosiddetto catalizzatore, che favorisce questa reazione, si dice, in chimica. In fisica, io dico che un catalizzatore permette, anzi, presta un elettrone ai reagenti. presta un elettrone, un elettrone può essere scambiato tra un atomo, tra l'ione, tra protone, e favorisce questa reazione. Allora, serve il catalizzatore. E qui arriviamo alla seconda difficoltà di tutto questo processo. scusate, sta gocciolando in continuazione perché si produce l'idrogeno e l'ossigeno esce. Allora, dentro non c'è solo un sottile strato di polimero, un sottile strato, 20 micrometri, 20 micrometri, non c'è solo acqua distillata da una o dall'altra parte, non ci sono solo elettrodi metallici molto sottili, ma c'è catalizzatore platino, platino nanostrutturale, cosiddetto platino nero, molto costoso. Da una parte platino, dall'altra parte potrebbe essere un altro catalizzatore, per esempio ossido di tungsteno, ma il catodo potrebbe essere fatto non di platino, ma di nickel. In altre parole, la struttura molto complicata, una nanostruttura abbastanza costosa. Di nuovo, recapituliamo. Una parte che intrappola gas, una parte che permette di fare la dissociazione della molecola, una parte che permette di fare la ionizzazione dell'atomo di idrogeno, e dall'altra parte viceversa, di ottenere elettroni e di produrre la molecola di acqua. Allora, uno strato poroso, uno strato di catalizzatore, per esempio platino nanostrutturale, anodo di platino, polimero dentro, nafion, catodo di nickel, e catalizzatore ossido di tungsteno, per esempio, e di nuovo uno strato poroso. Abbiamo l'idea, abbiamo l'idea di come fare la cosa, adesso applicazione tecnica, arriviamo tra un attimo, ma vediamo, recapituliamo ancora il discorso energetico di tutto questo processo, preso dai materiali di professor Hank Fuchs, materiali didattici del progetto FCH-Go, che fa vedere che cosa succede dal punto di vista energetico. dal punto di vista energetico viene fornito l'idrogeno e l'ossigeno. Possiamo dire che questi due gas separati hanno un potenziale chimico, potenzialmente, potenzialmente possono combinare producendo energie. Allora, hanno alto potenziale chimico, che è segnato con questa freccetta rossa, e quando viene formata acqua, questo potenziale chimico si abbassa. viene fornito il combustibile, freccia verde, e dentro l'energia chimica, potenza chimica, potenziale chimico si abbassa e produce la corrente elettrica. La corrente elettrica, portatori di corrente, elettroni, vengono portati al potenziale alto e riescono a fluire attraverso il circuito esterno. Energia chimica cambia in energia elettrica e una parte finisce anche con il calore. Arriveremo adesso tra un attimo a capire perché. Carica, calore, energia cinetica che entra. Il processo di formazione dell'idrogeno e ossigeno nella fase gassosa è esotermico, produce il calore. Però non vuol dire che la reazione avviene così per conto suo. Questo è il modello energetico, ma bisogna aggiungere una cosa, che in tanti processi chimici, anche nella combustione di idrogeno con l'ossigeno, serve una fiamma iniziale. Mescoliamo l'idrogeno con l'ossigeno, non succede niente. Bisogna accendere, portare il calore, accendere la fiamma e a questo punto scoppia, brucia. Dal punto di vista energetico vuol dire che dobbiamo attraversare una energia di attivazione. Bisogna fornire un po' di energia per favorire il processo. Nel complesso processo di dissociazione, ionizzazione di atomo e combinazione per fare l'acqua, anche lì serve l'energia. E per questo l'efficienza del processo non è 100%. L'efficienza del processo arriva al limite all'80% e il voltaggio, il potenziale elettrico che si ottiene da questa cella non è esattamente lo stesso potenziale che si usa per elettrolisi. Allora, all'anodo l'idrogeno reagisce rilasciando l'energia, ma proprio perché l'energia è rilasciata la reazione non avviene a una velocità illimitata. Per iniziare la reazione l'energia di attivazione deve essere fornita per oltrepassare la gobba di energia. Se la probabilità di avere la molecola con energia sufficiente è bassa allora la reazione prosegue lentamente. A parte le temperature alte questo è il caso di reazione nelle celle a combustione. Allora bisogna, bisogna usare il catalisatore, aumentare la temperatura, aumentare la superficie di elettrodi. Per quello si usa platino nanostrutturale che è la superficie di questo platino nanostrutturale molto più grande della superficie geometrica. Questa energia e vediamo adesso vediamo a potenziale che si ottiene 1,23 per fare elettrolisi questo sarebbe il potenziale ideale ma il potenziale reale è un volt. Si ottiene solo un volt dalla cella a combustione idrogena. Dall'altra parte dal silicio uno potrebbe aspettare dal pannello al silicio come questo uno potrebbe aspettare di ottenere 1,1 e si ottiene 0,6 perché? Perché anche qua c'è una energia chiamiamola di attivazione. Va bene. Allora il potenziale ideale è 1 ma nei circuiti reali dove c'è anche la carica esterna il potenziale è più basso questi sono grafici che presento da studi scientifici e tecnici su utilizzo di celle a combustione abbiamo dato qua riferimento internet. La struttura della cella è seguente la membrana di nafion molto sottile in mezzo catalizzatore platino nanostrutturale uno strato che cattura il gas e dall'altra parte di nuovo un catalizzatore uno strato che cattura il gas sul catodo la cattura del protone ed elettrone dell'atomo dell'ossigeno la cattura del secondo protone ed elettrone per formare acqua anche se la reazione esotermica la reazione sull'anodo richiede energia comunque nella fase gassosa o meglio nelle reazioni ioniche le energie richieste sono più basse come nella pila di volta a questo punto il catalizzatore può funzionare purtroppo il platino nanostrutturale è piuttosto costoso e qui ancora le foto a microscopio elettronico di alta risoluzione come sono fatte in dettaglio il lato di ossigeno lato di idrogeno di questa macchinina vediamo ha già prodotto un po' di ossigeno idrogeno speriamo alla fine della lezione di poter funzionare la macchinetta nafion nafion è una molecola abbastanza particolare somiglia a un polimero normale ma polimero fluorinato in altre parole teflon anche questo è scoperto di Dupont un teflon che però contiene un gruppo funzionale strano acido sulfonico solo questo polimero è capace di trasportare protoni attraverso la membrana per farvi vedere che non è cosa molto strana abbiamo fatto con colleghi polacchi le ricerche sul trasporto di protoni in altre molecole molecole organiche abbastanza complesse però il protone può saltare da un atomo all'altro abbastanza facilmente cambiando le proprietà molecolari riferimento scientifico chi è interessato ma esiste solo nei laboratori di scienziati no esiste anche nella natura perché perché lo squalo gli squali hanno il muso largo gli squali catturano i pesci ma i squali riescono anche a catturare i pesci nascosti nella sabbia il pesce nascosto nella sabbia non è visibile non si sente odore ma lo squalo è in grado di catturarlo perché lo squalo ha il muso largo ha due ricettori elettrici di debolissimi campi elettrici il pesce nascosto nella sabbia è nervoso trema tutto tremando produce potenziale elettrico lo squalo riesce a catturare questo potenziale ricevere fa detector possiamo dire rivelatore di questo potenziale come funziona questo rivelatore questo rivelatore contiene uno strano gel e la corrente elettrica dentro questo gel non sono elettroni sono protoni come nella nostra cella magari studiando gli squali arriveremo a un nuovo polimero capace di trasportare protoni produzione stoccaggio dell'idrogeno per la macchina per applicazioni reali è anche un problema si può usare si può fare contenitore a pressione un serbatoio a pressione si può fare idrogeno liquido sono grafici prodotti dai miei colleghi dell'università di Trento si possono usare metalli leghe metalliche che agiscono come delle spugne come delle spugne chimiche catturano idrogeno e lo concentrano nel modo molto più concentrato che idrogeno liquido il problema di queste leghe è che il rilascio di protoni e il rilascio di idrogeno non è abbastanza veloce quando la macchina deve accelerare deve fornire tanto idrogeno e deve fornire velocità alta non sempre abbastanza alta va bene ci sono problemi e concludo lavori scientifici e tecnologici proseguono per arrivare alle soluzioni plastiche e pratiche di stoccaggio di rilascio di sicurezza di tutti i sistemi automatici per controllare automazione e così via Mercedes Mercedes Benz ha prodotto nel 2017 un prototipo di macchina all'idrogeno serbatoi serbatoi di idrogeno grande cella a combustione grande cella a combustione deve fornire parecchia energia per sicurezza anche la batteria litio nei momenti quando non c'è abbastanza l'energia fornita da questa cella a combustione fu testato per 125 giorni con un percorso di 30.000 km purtroppo solo un prototipo solo un prototipo ma i giapponesi mi sembra Toyota fa pubblicità Toyota Mira che usa il polimero solido come la membrana ha il motore elettrico serbatoio di idrogeno di 37 litri a 70 atmosfere di pressione abbastanza basso vuol dire abbastanza molto sicuro tempo di rifornimento 5 minuti con il percorso vendono negli Stati Uniti di 300 mili vuol dire un po' di più di 400 km accelerazione da 0 a 60 mila per ora a 0 a 100 km orari in 9 secondi del tutto ragionevole e la pubblicità dice la tua con 389 dollari al mese facendo conti su 60.000 dollari non è ancora la cosa del tutto economica perché perché solo la cella al idrogeno quella a combustione è costosa e il costo è circa 30.000 dollari vuol dire tutto quanto che è la macchina adesso vediamo vediamo se riesco a fare collegamenti dalla cella dalla cella direttamente al motore ecco stacco qua collego direttamente alla cella stacco qua stacco qua collego direttamente alla cella un disastro perché abbiamo troppa acqua meno male che acqua non inquina collego qua riesco a inserire e vedete che la macchina gira non c'è più sole la macchina gira e va abbiamo abbiamo costruito abbiamo costruito la macchina che va ad acqua abbiamo costruito la macchina che va ad acqua applicazioni a Colonia in Germania c'è l'autobus che va all'idrogeno per il momento tre volte più costoso dell'autobus normale ma anche la pila di Volta quando Volta aveva inventato la pila erano monetine di argento e di stagno era molto costosa rispetto a una candela normale se non vengono fatti lavori scientifici non avremo nessun progresso allora è costoso questa è la foto questa è la foto non proviene dalla Polonia non dico da dove proviene ma si vede l'autobus in una città che dice che è molto ecologica che produce tanto polveri sottili polveri sottili sono cancerogene polveri sottili quelle prodotte dalle macchine sono cancerogene l'autobus all'idrogeno c'è tutta una striscia di paesi che da Norvegia va attraverso Bolzano tutta Italia a sud attraverso la Germania dove ci sono rifornimenti rifornimenti per le macchine che vanno all'idrogeno stazione di rifornimento dove ci sono autobus ecologici che vanno all'idrogeno si sviluppa questa cosa anche la Polonia sta per comprare qualche autobus all'idrogeno io lo chiamo una rete di buona volontà una rete di buona volontà perché non è solo la questione di CO2 bruciando il carbone in particolare si producono composti che sono molto molto velenosi si produce benzopirene che è cancerogeno e viene prodotto vedete questo sembrano proprio confini della Polonia la Polonia produce gigantesche quantità di benzopirene esporta anche verso paesi limitrofi gratis gratis in Germania fu anche pensato di fare fu pensata anche una nave perché stranamente le navi sembrano di non produrre tanta polluzione perché la producono sull'acqua motori potenti potenti motori diesel utilizzati nelle navi producono grandissime quantità non solo di CO2 ma di polveri sottili allora e non solo polveri sottili ma anche altri gas sera per esempio protossido di azoto si chiama N2O oppure biossido di azoto NO2 che contribuisce alla formazione dell'osono troposferico che è cancerogeno in altre parole si riesce a salvare l'ambiente dalle emissioni gigantesche di questi gas molto molto nocivi anche aerei ma aerei non andranno ovviamente all'idrogeno come combustibile ma l'energia elettrica per fornire tutti i circuiti elettrici può essere prodotta dall'idrogeno molto più facilmente che utilizzando motori dell'aereo perché ci serve tutto un processo di trasmissione di energia Benic nel suo modello A30X ha studiato di utilizzare le celle all'idrogeno per produrre l'energia elettrica nel aereo avete visto la macchinetta avete visto la macchinetta didatticamente l'impressione è fulminante perché abbiamo fatto andare abbiamo fatto andare la macchinetta ad acqua vediamo se c'è ancora l'idrogeno dentro abbiamo fatto andare la macchinetta all'idrogeno va 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 da sola va da sola accumulato l'energia prima accumulato così tanto gas che andrà meglio che la cella fotovoltaica non ho bisogno non ho bisogno del sole non ho bisogno della sorgente esterna di energia questo è il senso dell'economia all'idrogeno con i pannelli solari sul tetto possiamo produrre l'idrogeno quando il sole brilla possiamo immagazzinare questo idrogeno nella cantina attaccandosi alla propria pompa di idrogeno viene fornito l'idrogeno alla macchina giriamo tutta la giornata giorno successivo di nuovo carichiamo il nostro idrogeno prodotto in modo ecologico dall'elettrolisi usando pannelli fotovoltaici quando? quando finirà il petrolio il petrolio abbiamo detto abbiamo l'autonomia per circa 50 anni energia nucleare circa 50 anni altre fonti di energia non arrivano allora magari tra 50 anni arriviamo all'era dell'idrogeno allora hydrogen cell è renewable fuel possiamo produrre idrogeno qualsiasi momento produce solo l'acqua e potenzialmente è molto efficace dal punto di vista di fisica bruciare i combustibili è uno spreco produrre il calore non è la cosa che si dovrebbe fare ci sono altri modi almeno teorici dalla prospettiva scientifica e tecnologica per usare i combustibili fossili dibattito per i studenti trovare diverse applicazioni pratiche prototipi o applicazioni delle celle all'idrogeno andare su internet e trovare che paese che cosa produce portare alla prossima lezione diversi pezzi di pellicole polimeriche questo verrà fornito ai nostri partner e confrontare pezzi di indafion con altri pomolimere e magari fare qualche esperimento con la macchinetta vedere quanto idrogeno fu prodotto quanta luce fu assorbita se riesce a risalire se questo idrogeno abbiamo prodotto parecchio proprio i nostri serbatoi sono quasi pieni futuro è all'idrogeno però dobbiamo lavorare dobbiamo dire ai nostri studenti ragazzi se n'è da fare il futuro è vostro grazie per l'attenzione alla prossima arrivederci grazie per l'attenzione